Ciao ciurma, benvenuti dallo youtuber più veloce del mondo. Oggi ragazzi sono qui per portarvi l'ennesima teoria. In realtà ve l'ho già illustrata in un altro video, ma a quanto pare, siccome sembra che sia verificata, ve la illustrerò meglio adesso, partendolo a presupposto che ovviamente questo video contiene spoiler. Sigla! Dunque ragazzi, nell'episodio 3x22, Savitar ha trafitto Iris. Si è davvero realizzata la profezia? Iris è davvero morta? Oppure non è successo questo? Tempo fa vi dissi che il dispositivo di Ejar sarebbe stato capace anche di cambiare il corpo e non soltanto la faccia, e quindi che di conseguenza Ejar l'avrebbe potuto utilizzare per sacrificarsi al posto di Iris. Guarda caso, Perry ha utilizzato il dispositivo di Ejar e è diventato Laila con tutto il corpo. Ora bisogna chiedersi, Iris è morta veramente? No. Possediamo i famosi scatti rubati, vanno ad un funerale ed Iris è lì presente, quindi è viva. C'è anche Tom Kavanagh, ma molto probabilmente è re di Terra 2. Quindi il sacrificio di Ejar si è compiuto? Credo proprio di sì. O al più potrebbero tornare indietro nel tempo, cosa che non mi auguro, e fare questo scambio lì. Non escludo però che nel momento in cui Kid Flash si è ferito, quindi non si è più visto, si sia poi messo in combutta con Ejar e nel momento in cui Iris non è stata inquadrata, l'abbia sostituita ad Ejar, però ha utilizzato il dispositivo e si è quindi travestita da Iris. Sia in quel momento che sia in un altro, visto che poi vediamo anche Ejar, che dopo essersi pentito di aver detto dove stava Ejar, guardato lo spuntone come per dire, beh adesso faccio l'eroe, seguo questo spuntone e mi sacrifico. Quindi la teoria è molto plausibile, anche perché per i web circolano delle foto in cui si vede una lapide con scritto Ejar Wells, quindi di conseguenza con altissime probabilità abbiamo perso il nostro Ejar. Quello che vi do per certo, che sia per lo scambio meno, ma molto più probabilmente per lo scambio, è che perderemo il nostro Ejar. Se non perderemo il nostro Ejar sarà Harrison Wells di Terra 2. Non c'è altra opzione, perché il fatto che ci sia scritto Ejar Wells potrebbe significare che avendolo seppellito, poi chissà per quale motivo, su Terra 1, non potevano scrivere Harrison Wells perché sappiamo bene che era un famigerato criminale e quindi per questo non avrebbero scritto Harrison Wells ma Ejar anche per Ejar di Terra 2. Quindi rimane questa l'unica chance. Uno dei due Harrison morirà. Quindi perderemo mezzo Tom Kavanagh, diciamo così. Il video è molto breve ragazzi, ma semplicemente perché volevo confermarvi chi era il morto di questa stagione, cioè uno dei due Harrison con molte più probabilità Ejar. Quindi, insomma, non dare false speranze a chi ancora spera, come vedo nel gruppo Telegram, che sia tutta altra persona a morire. Purtroppo dovremmo perdere uno dei nostri beniamini e dobbiamo anche accettarlo. Vi invito a farmi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa perdita. Se ancora avete altre ipotesi, nonostante la foto sulla lapide dei Ejar, nonostante gli scatti rubati, ma se è così date una spiegazione che possa essere convincente, seguitemi su Telegram, Instagram e Facebook. Saluto da vostro Capitano Bandana e sigla finale. Sous-titrage Société Radio-Canada